Adesso che abbiamo tutti i componenti degli allestimenti pronti per essere assemblati, possiamo proseguire nel farvi vedere il montaggio in linea. Questo è il cuore pulsante dell'azienda. Segue il ritmo imposto dal cliente ed è il reparto su cui si sono concentrati i maggiori studi in ottica di ottimizzazione. Attraverso la trasformazione Lean abbiamo reso il lavoro più piacevole per l'operatore e più scorrevole per l'azienda. Infatti, ogni cosa è al suo posto e c'è un posto per ogni cosa. L'attrezzatura e il materiale disposto a bordolinea permettono all'operatore il montaggio in sequenza di allestimenti diversi tra loro. Così facendo, riusciamo ad andare all'esatto ritmo richiesto dal cliente, per soddisfare ogni sua esigenza in termini di tempi di consegna e variabilità di prodotto. Gli allestimenti arrivano finiti in fondo alla linea, già predisposti per il montaggio sul veicolo o per la spedizione in kit per il montaggio fuori dalla nostra sede. Nel prossimo video vi mostreremo l'abbinamento tra il veicolo e il ribaltabile. Grazie. Grazie. Grazie.